La pace dei santi sia con voi. Il 9 luglio la Chiesa celebra la memoria di Santa Veronica Giuliani, Vergine. Veronica, al secolo Orsola, è una delle più grandi mistiche della storia. Ebbe numerose rivelazioni e ricevette le sacre stigmate. Nata a Mercatello sul Metauro, presso Urbino, nel 1660, visse 50 anni nel monastero delle Clarisse di città di Castello. Entrata a 17 anni, vi morì nel 1727, dopo essere stata cuoca, infermiera, maestra delle novizie e badessa. All'autopsia risultò che il cuore era trafitto da parte a parte. Dopo aver ricevuto le sante piaghe della passione di Cristo, infatti, rivela nel suo diario spirituale, piansi molto e con tutto il mio cuore pregai il Signore di volerle nascondere agli occhi di tutti. Nulla sapremmo delle esperienze di Santa Veronica se il direttore spirituale non le avesse ordinato di trascriverle. Lo fece per 30 anni e il risultato è il Tesoro Nascosto, pubblicato in dieci volumi dal 1825 al 1928. Morì nel 1727, dopo 33 giorni di malattia. È santa dal 1839. Buono nomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Veronica ed auguri a quanti il 9 luglio festeggiano il compleanno come il nostro caro cameraman Daniele Ghiglioni e a quanti festeggiano l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza. Grazie a tutti.